Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 25 settembre lunedì, buon inizio settimana a tutti quanti voi. Sui giornali oggi la notizia delle notizie è ovviamente quello che ci si attendeva già da ieri, cioè le elezioni tedesche. Il 24 settembre di domenica si sono tenute le elezioni tedesche e i risultati ormai li sapete, penso tutti quanti voi. Se seguite questa zuppa di poro avete un po' di attenzione nei confronti delle news e delle informazioni che ci sono sui giornali e soprattutto sulla rete. Ha vinto la Merkel? No, ha perso. Ha perso 9 punti percentuali. Oggi forse il giornalista di cui io maggiormente mi fido che ha scritto di queste cose è Danilo Taino sul Corriere della Sera e dice che dal 1949 la sede U, il partito della Angela Merkel, non prendeva un risultato così basso alle elezioni. L'altra notazione molto semplice che ha fatto Danilo Taino, che è una cosa di una banalità sconcertante nella sua giustezza, ma che nessuno oggi scrive, è che se la sede U si sposta a sinistra, se il partito democratico e il partito popolare, scusatemi tedesco, si sposta a sinistra, si crea uno spazio a destra. C'è poco da fare e questo spazio è stato occupato dal terzo partito tedesco che si chiama AFP, che viene considerato dall'universo di tutti i giornali un partito praticamente neonazista, tranne dal giornale da Libero, insomma da pochi giornali. Vengono definiti neonazisti. Viene intervistato il suo presidente che, guarda caso, il neonazista presidente dell'AFP viene dalla CDU e viene cioè dal partito di Angela Merkel, quindi proprio neonazista, se lo è oggi, lo era anche ieri quando stava nella CDU. No, oggi è diventato neonazista e soprattutto quando a lui chiedono, lo fa il Corriere della Sera, ma siete neonazisti, lui dice che non sanno neanche cos'è il nazismo, se pensano che noi siamo neonazisti. Io me lo ricordo bene che cos'era e noi non lo siamo. Il fatto che lui non lo neghi probabilmente non è importante, ciò che non negano invece il quarto o quinto partito tedesco è di essere comunisti. Bene, i comunisti sono legittimati a entrare in Parlamento, lo erano nel precedente, l'Inche, estrema sinistra, arrivano anche in questo come quarto partito con 67 seggi, ma se sono di destra non vanno bene ed è un'ombra sull'Europa, se sono comunisti non è un'ombra sull'Europa. Beh, c'è da ricordare che la Germania ne ha avuti due di regimi, uno tremendo che è quello nazista e che è stato, grazie a Dio, sconfitto e l'altro altrettanto tremendo, diciamo la verità, che è quello comunista sotto l'impero sovietico. Bene, in Germania l'impero comunista è finito da poco, non è che è finito 70 anni fa, è finito da 20 anni e in questi 20 anni l'idea che ci siano dei Reduci che ancora amano quel sistema e che si professano comunisti a me fa timore come se ci fossero nazisti che peraltro non si definiscono tali. Va bene? Scusami, AFD Paolo, io continuo a dire AFP e AFT Alternative, poi Deutschland ovviamente. Altra questione fondamentale è come si faranno le coalizioni. Le coalizioni si faranno, dice la Merche, dicono i socialisti che sono scesi al loro minimo storico con quel genio di Schulz, un altro a cui non daresti voto neanche pagato, bene, Schulz dice non faremo una coalizione con i popolari della Merkel e quindi l'ipotesi è che ci sia una bellissima rista come si chiama Jamaica in cui dentro ci sono i liberali che sono rigorosi di centro-destra e i verdi. Io pensare che ci sia Merkel, verdi e liberali a guidare un paese, insomma mi sembra una cosa dell'altro mondo, però ovviamente loro possono farlo. Valli oggi su Repubblica dice che nessuno a destra della CDU e CSU era entrato nel Bundestag. Io credo che questo non sia vero, non credo che sia vero questa frase delle prime di Valli, che nessuno a destra del CDU. Penso che addirittura Adenauer, nei suoi primi governi, avesse qualcuno a destra della sua CDU che fondò. Però aiutatemi voi perché magari ne sapete più di me, anzi sicuramente ne sapete più di me, ma il tema è poco importante. Quello che è importante è che c'è questa specie di cupezza quando ha vinto un partito, è arrivato terzo peraltro un partito di destra che nessuno vuole al governo. Mi piace molto un post di Giovanni Negri, radicale, molto simpatico, che insieme a Capezzone hanno detto forse le due cose più intelligenti di oggi. Vi leggo cosa dice il post di Giovanni Negri. La più grande statista del secolo sarebbe Angela Merkel. La fenomena! Quella che un tempo di Berlusconi definiva la culona e che adesso invece Berlusconi ama la follia e che lo possiamo anche capire perché spera che ci abbia una sentenza favorevole della corte di Strasburgo. Ma in 12 anni, dice Giovanni Negri, alla guida della Germania della UE, la Grecia è ridotta alla miseria, la Gran Bretagna rompe e se ne va. Non c'è più un paese che chiede l'ingresso nell'euro, molti ne vogliono uscire. Svizzera e Repubblica ciega scollegano Franco e Corona dalla valuta europea. Gli unici paesi del continente economia florida sono quelli che hanno ancora una valuta che non sia l'euro. Il sud Europa vive una crisi senza precedenti dal dopoguerra. Nessun paese, primo tra tutti la Finlandia per espressa dichiarazione del governo di Helsinki, è in grado di conciliare i parametri UE con i bilanci in pareggio. La UE subisce del tutto impreparata e non gestisce le ondate migratorie. Il populismo anti-UE irrompe in ogni paese. In Germania, dice Negri, entrano i neonazisti. E su questo Negri, secondo me, sbaglia alle Bundesbank. Angela Merkel ha meravigliosamente incarnato i valori e gli interessi di una maggioranza relativa di tedeschi e di una ristretta minoranza di europei. Insomma, questo fenomeno, secondo Giovanni Negri, della Merkel non c'è stato. Molto interessante anche Capezzone, che oggi sulla sua newsletter che ricevo tutte le mattine, dice che il casino non doveva venire dalla Brexit. Invece mi sembra che questa grande instabilità ce l'abbiamo nel cuore dell'Europa e ce l'abbiamo in quella Germania che dovrebbe essere il paese più stabile d'Europa. Già mi sono rotto le scato di parlare di politica estera. Quello che mi diverte di più di questa storia è che se vince la destra di qualsiasi formato esso sia, essa diventa estremista, razzista, fascista, la gente che l'ha votata dei deficienti. Se vincono i comunisti, è successo in Grecia, è successo in Spagna, con un po' di rifiocchettature modernizzanti. Se vincono i comunisti, è lo stesso link che vi dice. Allora siamo a posto. Pirozzi, il sindaco di Amatrice, a proposito di personaggi che non la mandano a dire due volte, oggi sul tempo scrive una lettera e dice una cosa semplicissima. Dice io non ho detto che siano spariti i soldi degli SMS. Perché mi attribuite frasi come questa che io non ho mai detto e la protezione civile si difende sul fatto che io abbia detto che sono spariti. No, non è che sono spariti gli SMS dei 3 milioni italiani che hanno voluto dare ad Amatrice e ad altri paesi terremotati e che non sono arrivate ad Amatrice quei soldi, sono stati utilizzati per fare cagate come quelle delle piste ciclabili. Io voglio trovare quel genio che ha detto facciamo una pista ciclabile. Peraltro se tu vai in molti dei nostri comuni è talmente fico oggi fare le piste ciclabili che le scuole crollano ma le piste ciclabili ci sono a cacchio di cane in qualsiasi piccolo cittadino sperduto dell'Italia e servono a zero se non a vellicare qualche verde contento della pista ciclabile che serve a nulla. Fantastici sono quei due posti vicino. Sono stato quest'estate in Sardegna, l'assessore parlava delle piste ciclabili della Sardegna, tutto a posto, le strade della Sardegna non vi posso neanche raccontare come sono e poi passando per andare a Castel Sardo visto che tra un paese e l'altro c'erano effettivamente nei singoli paesi le piste ciclabili ma non si congiungevano tra un paese e l'altro. Geni della programmazione italiana e dell'aspetta delle vostre e nostre risorse. Poi figurati se volete andare in bicicletta sono ben contento, siamo tutti contenti, mio moglie non fa altro che andare in bicicletta, ma delle piste ciclabili spese al posto di costruire le strade mi sembra una di quelle cose da far venire il sangue al cervello. Così come il report fatto oggi dal sole 24 ore, molto buono, il lunedì ci si è messo di puzzo buono il sole 24 ore, 6 miliardi di euro spesi per i giovani in Italia. Cosa servono a? Zero! Prendiamo i 6 miliardi, mandiamo affancuro la burocrazia, mandiamoli a quel paese, mettiamoli in un ufficetto a disegnare piste ciclabili. Cioè disegnano piste ciclabili, noi burocrati, gli facciamo disegnare delle piste ciclabili, tutte quante belle dritte che non si faranno mai e quei 6 miliardi gestiti da questi burocrati, progetto giovani, aiuto di qua, giovani agricoltori eccetera, li prendiamo e li distribuiamo direttamente come cash a quei giovani che diventerebbero miliardari. Va bene? Invece i burocrati farebbero le loro piste ciclabili e i 6 miliardi li diamo direttamente ai giovani cash e sarebbero più ricchi invece di togliere a noi 6 miliardi per darli a dei burocrati che si inventano dei progetti per trovare l'occupazione dei giovani i cui giovani non la trovano. Dato il sole 24 ore ci sono 24 diverse misure per aiutare i giovani, 6,4 miliardi. Sapete quanti sono i giovani in Italia tra i 15 e i 35 anni? Il 22% dei residenti, cioè il dato più basso di tutta Europa, quindi il vero problema in effetti c'è, non c'entra nulla con l'immigrazione ma c'è, è che gli italiani non fanno figli, il che è il vero dato negativo di questo paese. Stupendo oggi Messina su Repubblica, giornalista di Repubblica che prende in giro grillo sul fatto che ci manda a quel paese a tutti quanti noi giornalisti. Ha perfettamente ragione, lui è un comico, scherza quando dice che vi mangia e vi vuole vomitare, lui è un comico, scherza quando dice che voi siete delle carogne, lui è un comico, scherza quando dice che voi siete degli schiavi, lui è un comico, scherza quando vi dà dei soldi e dice adesso che vi ho pagato dite che noi siamo il movimento più bello del mondo. Poi però quando qualcuno che non scherza vuole minare i giornalisti come è venuto alla Kermes di Rimini non si può dire che è un comico che scherza, ma forse il comico che scherza dovrebbe stare un po' più attento a quello che dice. Vabbè, su tutto questo è tutto per oggi, vi do un saluto, vi ricordo che domani martedì sera c'è Matrix e quindi incollati al teleschermo e incollati soprattutto alla zuppa di porro che è la rassegna stampa che tutte le mattine non vi lascia soli. Ciao!